Il jersey è un tessuto in una... è un jersey, quindi un jersey è un tessuto che è utilizzato da molti brand ma questa particolare formulazione è tipica di Nina Leonard che ha scelto una finitura opaca e una consistenza che è tale per cui si può indossare sostanzialmente tre stagioni su quattro è una... il jersey ha la caratteristica... mi sono mangiato la lingua... la caratteristica di essere particolarmente elasticizzato quindi super stretch, comodissimo, confortevolissimo, assolutamente impossibile da stropicciare quindi questo si butta in lavatrice e non si stira nemmeno proprio... guai a voi se stirate questo capo nel modo più assoluto e di tenere benissimo il colore che vuol dire che anche dopo molti anni di utilizzo e ripetuti lavaggi il colore rimarrà assolutamente piacevolmente intenso in questo caso abbiamo una scollatura tonda leggermente a barchetta abbiamo queste applicazioni di pizzo sulla parte della manica per dare un gioco di sensualità e di trasparenza laddove è più prudente farlo perché la spalla è il punto in cui non ci sono sostanzialmente difetti ci salviamo sempre tutti Giulia della Peruta ha fatto il pasticci, grazie ditemi voi se uno deve arrivare fin da Castions di strada per farmi questi dispetti a me ha fatto non uno, due nodi come potete vedere se no era troppo facile adesso la grande complicazione qui è trovare il verso ecco e vedete che non ci sono c'erano due nodi devo provare a farne tre la prossima volta uno nelle maniche faremo il tiro alla fune alla fine di tutta questa cosa ed è super stretch guardate quanto gioco ho c'è una cintura che se volete potete utilizzare per segnare leggermente la vita oppure potete tranquillamente liberarvene e utilizzarla per altre cose oppure utilizzarla in altri momenti a seconda magari anche di come quel giorno se siete un pochettino più gonfi e avete voglia di essere più morbide, più libere si può utilizzare anche in sovrapposizione magari al pantalone slim quello che vedremo tra poco in viscosa ecco la mia giacchina a zaffero sopra ma su assolutamente sì perché il colore è esattamente lo stesso non so se Adriana Gallino riesce a portarmi il blazer nello zaffero tutto per fare un total look è in assoluto la mia preferita proprio di tutte